signore da chi andremo tu suoi le parole di vita eterna sono le parole di pietro mentre siamo tentati ad essere distratti da tante altre strade la voce della chiesa ci ricorda che c'è una strada principale che c'è una strada bella la strada che ci porta da cristo perché solo lui ha parole di vita eterna però solo lui ha parole che danno senso alla vita che spiegano la vita che ti spalancano la vita che ti donano l'orizzonte ultimo e grande della vita che è l'eternità allora sì non andremo lontani da questa strada da questa via che è cristo perché in questa via incontriamo la verità che è cristo e in questa via noi riceviamo la vita vera che è cristo grazie